2008 Padre Michele Piccirillo, morto nel 2008, è stato un famoso archeologo ed era un padre francescano. Sono famosi i suoi scavi in particolare in Terra Santa, soprattutto in Giordania, sul Monte Nebo. Il Monte Nebo è il monte da dove Mosè vide la Terra Santa, la Terra Promessa, ma non vi poteva entrare. Padre Piccirillo era una persona molto gentile, molto affabile, veramente appassionata di Gesù, della Terra Santa e anche dell'archeologia. Io stesso ho avuto modo di conoscerlo ai tempi in cui ho curato, tra gli altri, la Bibbia della famiglia. Ci sono alcuni particolari interessanti della vita di Padre Piccirillo. Uno è il fatto che è diventato protagonista di una serie di romanzi scritti da Franco Scaglia, il primo dei quali è Il custode dell'acqua. Il protagonista è proprio ispirato a Padre Michele Piccirillo, anche se ovviamente il nome è stato cambiato. Vorrei concludere con una frase significativa, pronunciata proprio da Padre Michele, stando sul Monte Nebo. Così disse, da una montagna dalla quale Mosè gettò uno sguardo di speranza sul futuro, anch'io provo a guardare avanti, vedendo tanti giovani pronti a vivere in pace, in un mondo che non ne può più di guerre e di odio. Così 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 Grazie a tutti.